Ma questo mouse non fa niente, così non funziona. Ma ti ha cagliato. Eh, eh. Se una cosa ti pensi, perchè è una vita mia, questa è la Santa Nostra Sigla, c'è proprio un negozio per computeristiche frattaglie. Computeristiche frattaglie? Si. Ma come si chiama questo negozio? Si chiama Operium House. Questo è buono.